Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo live Nella nuova puntata del live di The Walking Dead e andiamo avanti Ecco eravamo arrivati qua Dovevamo salvare Oh 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 Ehm 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 Ok Ok neanche la parte chiusa figura no, abbiamo già provato e ritorniamo indietro come cacchio si fa ad andare avanti qua qua c'è sto zombie di merda che mi guarda cuscino mio cuscino secondo voi se vado piena di oh, ce l'ho fatta per fortuna allora dovremo ritornare di là che casino, mamma mia allora, magari poi non ho un casino, se no è un coglione che non riesco da arrivarci non ci vede nessuno beh non ci vede nessuno 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 con i cuscini ovviamente non ci vede nessuno non ci vede nessuno ma la notte ma la notte prima bella ok ce l'abbiamo fatta candela prendila vale vale la candela dovrai ci metterla da parte non ci vede nessuno non ci vede nessuno non ci vede nessuno e ma due vare nessuno non ci vede nessuno non ci vede nessuno non ci vede nessuno ah e mo abbiamo capito il tutto ora devo ritornare di qua mazzare con il cuscino questo qua ah ma aspetta c'è ancora un cuscino? no? non ha più un cuscino bene bene andiamo di qua dietro seee non ci posso far niente ma porca puttana non posso far niente ritorniamo di qua andiamo di là andiamo di là ma con la candela che cacchi ci può fare con una candela con una candela con una candela un momento non c'è niente non c'è niente non c'è niente ah ma va sempre da questa parte ora dovremmo andare di là da mazzare con l'altro non questo qua ma quello dietro di là andiamo di là nooo ho fatto una cazzata immaginando si muori coglione si muori coglione per sicuro minchia se l'ave proprio conficcato bravo non c'è niente non c'è niente non c'è niente oh cazzarola oh ma ce ne sono ancora i zombie oh ancora quelli andiamo 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 lì e uno vieni vieni e due rè 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 radicale e ora pensiamo a sta porta non c'è che 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 è che che non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è sarà meglio che esci che brutta non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è che non c'è non c'è non c'è non c'è che è che non c'è va bene è sto lag di merda è stato sattano qua da te lo faccio meno no lo faccio ne lo faccio lo faccio Fine. You're all fucking crazy. I've seen what the hell is like and it's coming back as one of those things. I had that. Thank you so much. I know how terrible this will be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because, 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 because somebody needs to pick up the gun, 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 gun. Can't leave it. Okay. Lug pazzesco. Si sta finendo. I'm here with you. You're a good man. Eh, lo so. Boh, let's go. Let's go. Boh, now you're happy. You're in place. Can we go? I'm there. For a fortune. Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine and... Well, yeah. Ah sì, che tanto morevano tutti prima o poi, quindi forse è meglio che muore adesso. Quella dannata chiave. Io la prenderò ad asciate. Prendila ad asciate. Buu. Dai, ma che pippa sei. Ma che pippa sei, ma che pippa sei. Sei troppo una pippa. Andiamo di là. Ma che pippa sei, ma che pippa sei, ma che pippa sei, ma che pippa sei. Ma che pippa sei, ma che pippa sei. Sì, sono un disastro. Non posso dire. Il mio editor di notizia si è venuto a circa 5 metri da me. E io avrei chiamato se non fosse per il tuo dorko che era a guarda qua. E io ero un addio. E io ero un addio. Ma, sai. Era una stronta, ma. Allora... E io che torni già. 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 Non ti mangiare. E tu ricordi cosa ho detto. Sì, io lo vedo. Il cacchio potrebbe essere la chiave. Non può tenerla tanta nascosta. Cacchio. Dove cacchio la tiene? Perché più di in qua non si può andare, parca puttana. Cos'è? Cosa senti? Il futuro. Molto ora, segno. Come potete essere così brezza così veloce? Cosa che quando le cose sono dipendisi... Ci sono una cosa fredda. Beb no per me. Ma non mi hai perso... Non ne ho fare qualcosa. Beh, eh. Beh, d'accordo. Come hai messo, sai. E tu dicevi l'escolla... E io lo lo ho detto. ecco ragazzi il video è finito mi raccomando mettete mi piace e commentate e iscrivetevi al mio canale ok ciao a tutti